Enrico Letta ancora primo. Le ultime rilevazioni del 2021 danno il Partito Democratico in testa sondaggi. Per Euromedia Research Idem portano a casa il 21,3%, Ipsos il 20,7%, SWG il 22,2%, Demopolis, 21,4%, Tecne, 21,7%, XE, 22,4%, con la sola eccezione di termometro politico che dà in vantaggio di un punto Fratelli d'Italia, 21,1 a 20,1. Poco più sotto, ecco che c'è Giorgia Meloni. L'ascesa di Fratelli d'Italia viene nuovamente incoronata in quasi tutti i sondaggi, dove registra una media del 19,5%. Per Ipsos XE il balzo che è stato, visto che la Meloni sarebbe stata sorpassata da Matteo Salvini. FD viene così dato al 18,8% e al 17,4% in quello che è un testa a testa con la Lega. Il carroccio guadagna in media qualche decimale, oscillando tra il 20,1% di Ipsos e il 17,8% di Euromedia Research. Poi è la volta del Movimento 5 Stelle, che arranca registrando l'ennesima flessione. La forza politica di Giuseppe Conte, infatti, cala sempre più. Eccetto per Ipsos, che, scrive Repubblica, porta a casa un incremento di quasi un punto percentuale, dal 15,5 al 16,4%. Buone notizie in casa Forza Italia. Gli azzurri possono contare su un nuovo balzo di fine anno. Il partito di Silvio Berlusconi in media ottiene nei vari sondaggi poco più del 8%. Merito della sfida per il Quirinale? Chissà. Staccati tutti gli altri partiti, che quasi mai superano la soglia di sbarramento del 3%. Azione di calenda secondo SWG è al 4% e Italia Viva al 2,3%.